a tutti in questo video andremo a fare l'unboxing del nuovo google home il next mini andiamo ad abridere All'interno troveremo il Next Mini, il suo alimentatore e i libretti di istruzione. Allora andremo a vedere le differenze con il Google Home di prima generazione. A prima vista sono i ventici, la differenza è nel retro, che è tutto in gomma, invece qui solo al centro e qui c'è un piccolo foro per poterlo appendere al muro. Un'altra differenza evidente è il connettore dell'alimentazione. Nel vecchio Home, Micro QSD, in quello nuovo è un connettore proprietario di Google. In tutte e due c'è sempre il tasto per escludere, lo switch per escludere il microfono. E la parte superiore è fatta in 100% di plastica reciclata. Nella nuova versione è stato aggiunto un microfono e sono stati aumentati i bassi. sull'alimentazione, infatti questo ne ha 3 e questo vecchio ne ha 2. Se il video vi è piaciuto mettetemi un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao!